Il dolore passerà Il dolore passerà Il dolore passerà Grazie. So beautiful, so beautiful, so beautiful, hey, lega le mie mani, lega le mie gambe, apri le mie mani, apri le mie mani. Marco Marison ancora avanti, i primi 100 metri avvirato in 1.0067, siamo ormai al passaggio dei 150, ancora lui al testa della corsa con in seconda posizione dalla corsia 1 Gabriel Saliu, sono le corsie esterne laterali degli outsider, a farla da padroni in questa prova. Siamo in acqua con la seconda serie ragazzi, si vira ai 200 metri, Barison 2.0404, Saliu 2.0607, prova a inserirsi anche del PUP che ha virato in 2.0677. Intanto entrano sul piano vasca i protagonisti di quella che sarà la prima serie 400 stile libero ragazzi. In corsia 1 noterà Paolo Versolini per il Pesaro Nuoto Team, in corsia 2 Cristian Ferraro Veneto Banca Montebelluna. In corsia 3 in questa gara è stato bronzo ai campionati italiani di categoria di Roma, Mattia Zuin, noto di nuoto 74. In corsia 4 un altro atleta di casa del Veneto Banca Montebelluna, Riccardo Cervi. In corsia 5 Giovanni Con, noto di nuoto per 74, in corsia 6 Leonardo Sultato, Unione Sportiva Idros. Intanto Barison ancora davanti 3.07.15, Saliu 3.11.04, Gregoratti si porta in terza posizione in 3.12.44. Miglior crono fino a questo momento di William Casarotto, 4.15.24, andiamo a vedere cosa saprà fare Barison. Con 3.39.08 vira ai 350 metri. Lo sprint di Barison per un posto da leader nella classifica generale, andiamo a vedere proprio il suo risponso cronometrico. 4.10.18, senza mezzi termini, va in testa alla classifica di insidiare anche i protagonisti della prima serie, la prossima ai blocchi con Gabriel Saliu che chiude secondo in 4.15.15 e poi Del Pup la spunta per la terza posizione 4.16.83.